Una donna di 59 anni tenta di introdurre droga all'interno del carcere di Furni attraverso una stratagemma. Il tutto viene sventato dagli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia in collaborazione con la Polizia Penitenziaria della struttura Antonio Caputo. I polisotti della squadra investigativa del Commissariato di Battipaglia sono venuti a conoscenza che una donna 59enne residente a Napoli si sarebbe recata presso l'Istituto di Pena al fine di consegnare al figlio, ivi detenuto, sostanza stupefacente del tipo acish nel corso di un colloquio. Presso l'area esterna dedicata all'accettazione dei colloqui prima di fare ingresso alle sale sono sopraggiunti gli ufficiali e gli agenti del Commissariato di Battipaglia che hanno bloccato la donna e sottoposto a perquisizione personale da personale femminile e hanno trovato circa 50 grammi di acish suddivisi in 5 pezzi occultati in un palloncino in gomma che aveva accuratamente introdotto nelle parti intime. Dopo le formalità di rito la donna è stata arrestata per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM di turno, collocata presso una casa famiglia.